Il maestro John Beck, timpanista di fama mondiale, uno dei compositori di letteratura percussionistica tra i più eseguiti al mondo, maestro di importantissimi solisti sia in ambito classico, lei Howard Stevens, uno dei marimbisti più in vista di questi tempi, ma anche maestro di un grandissimo batterista quale Steve Gadd e chi segue un po' la musica extracolta sa di che musicista stiamo parlando. Questo maestro John Beck non solo è stato a sua volta un ottimo batterista di jazz, ma ha sempre cercato di favorire questa inclusione dello strumento batteria nel novero delle percussioni e nell'insegnamento in ambito accademico. Nato nel 1933, John Beck ha suonato e ha insegnato in alcune importanti istituzioni didattiche come la Eastman School of Music, dove appunto ha avuto degli allievi di grandissimo successo, è stato presidente della maggiore istituzione didattica legata al mondo delle percussioni che è la Percussive Art Society degli Stati Uniti. Il suo concerto per batteria e ensemble di percussioni è stato composto, il concerto che vi proponiamo questa sera, è stato pubblicato nel 1979 e aveva in origine una durata di 12 minuti. prevede oltre alla batteria, che avrete modo di apprezzare sia nel suo ruolo più naturale, quello di strumento di accompagnamento, ma anche in alcune parti come strumento solista, prevede appunto oltre a questo strumento l'impiego di altri sette percussionisti impegnati in un insieme di strumenti che toccano sia l'aspetto legato alla musica classica e sinfonica, sia più quello etnico. Quindi abbiamo marimba, vibrafono e xilofono, cui sono affidate le parti melodiche della composizione, water gong e vibraslap, che sono degli effetti percussivi che aggiungono una nota un po' esotica all'esecuzione, abbiamo bongo e congas che si fanno carico di alcuni partner ritmici di base, ai timpani è affidato invece il ruolo dei bassi, tom tom, gran cassa e piatti sospesi fanno un po' da contraltare proprio alla batteria solista e fungono un po' da tre di union tra il solista e appunto le parti dell'ensemble percussivo. E' stato commissionato questo concerto dall'ensemble di percussioni dell'Università dell'Oklahoma e prevede appunto il batterista come forza predominante dell'intera composizione. Quindi dalla bravura del solista dipende gran parte del successo della composizione e della performance complessiva. Il batterista chiamato a interpretare questo concerto come solista è l'insegnante qui a Bari, titolare della cattedra di Batteria Jazz, il maestro Giuseppe Berlen. E perché lui, non solo perché insegna qua, perché è stato anche il primo musicista a registrare, a fissare sul cd un'esecuzione di questo concerto. Cosa che è avvenuta nel 1999 durante un concerto qui a Bari alla chiesa della Vallisa e quando con l'ensemble il progetto sonoro diretto dal maestro Luigi Morleo ha appunto fissato questa prima incisione del concerto. Maestro Morleo che a sua volta insegna qui percussioni, titolare della cattedra di strumento di percussioni. A proposito di quell'incisione del 1999, nelle note di copertina l'autore John Beck ha avuto parole di grande elogio sia per il lavoro del direttore Morleo dice più o meno testualmente da applaudire la sua abilità nel modellare la composizione in una consistente forma di espressione musicale. Sia per il solista al maestro Berlen la sua sensibile attenzione alle parti scritte la sua attitudine creativa per l'improvvisazione hanno prodotto un'interpretazione molto convincente del mio concerto quindi parole di assoluta, insomma assolutamente lusigniere. Non è tutto perché il maestro Berlen ha avuto poi la possibilità di suonare questo concerto diretto dallo stesso autore, dallo stesso compositore dal maestro John Beck che avveniva al Conservatorio di Fermo in occasione del Festival Internazionale Giornate della Percussione 2008 un onore che era toccato prima di lui a alcuni tra i più grandi batteristi in circolazione ancora oggi appunto musicisti del calibro di Peter Eskin e Steve Gadd di fronte ai quali però il mio amico Giuseppe ha tutt'altro che sfigurato Your playing was inspiring è stato il commento a caldo all'esibizione del maestro in quel di Fermo due parole su questa composizione quello che ascolterete la batteria viene appunto esaltata in questo suo duplice ruolo tanto di strumento d'accompagnamento anzi forse lo strumento per antonomasia d'accompagnamento quanto nelle sue vestita di solista le parti scritte quindi le parti della composizione alternano momenti in cui vengono fuori ambientazioni più vicine e assimilabili alla musica contemporanea e invece altri momenti più assimilabili al jazz in particolare ci sono due momenti improvvisati aperti due momenti di improvvisazione aperti in cui sentirete in azione sia l'ensemble di percussioni sia appunto il maestro Berlin alla batteria come se non bastasse tutto questo e a dilatare ulteriormente la durata ma sempre in termini di assoluta fruibilità del concerto sono state aggiunte alcune parti è stato potenziato ulteriormente l'organico questa sera ascolterete ed è una prima assoluta il concerto per batteria e ensemble di percussioni è arricchito anche di un trio jazz composto da pianoforte, contrabbasso e da una cantante con questo trio oltre che con l'ensemble di percussioni il solista si troverà a dialogare sia col trio nel suo complesso sia con i suoi singoli componenti quindi una serie di piani sonori che si andranno a sovrapporre creando situazioni sempre diverse molte delle quali assolutamente improvvisate come è giusto nella migliore tradizione jazzistica non solo anche un ulteriore rafforzamento della parte percussiva con ben sette batterie i sette componenti della sezione percussiva dell'ensemble percussivo sono studenti del conservatorio come anche i sette batteristi che saranno chiamati a creare un ulteriore momento ritmico e di dialogo col solista che sono stati scelti tra i partecipanti alla masterclass sulla storia della batteria quindi in qualche modo inserite in un contesto tra virgolette colto possiamo ascoltare questo strumento che è il più giovane tra quelli che vedete qui sul palco quello che è la minore anzianità di servizio io non posso che ringraziare da parte mia chiedervi un grosso applauso per la struttura tutta il conservatorio di Bari che ha voluto questo evento in particolare il direttore Gianpaolo Schiavo e non mi resta che presentarvi i musicisti che daranno vita a questa serata davvero particolare al contrabbasso il maestro Giorgio Vendola al pianoforte al pianoforte il maestro Livio Minafra alla voce Gianna Montecalvo la direzione del concerto è affidata al maestro Luigi Morleo e il solista e il protagonista di questa esibizione è il maestro Giuseppe Berlen grazie e buon ascolto grazie a tutti grazie a tutti